Da lunedì a Ponte Nossa, nei parcheggi di recente realizzazione nella zona ricavata dall'allargamento della piazzale antistanti negozi, dove alcuni automobilisti nelle ultime settimane avevano preso l'abitudine di lasciare la propria vettura per prendere l'autobus, è stata introdotta una zona a disco orario dove la sosta non può superare le due ore. Alcuni automobilisti hanno risollevato quindi ancora una volta il problema della mancanza di una zona dove i pendolari possano lasciare la propria automobile. I parcheggi a pagamento vicino alla stazione tornano dunque a far discutere. Sentiamo questa intervista di Nicola Andreoletti al sindaco di Ponte Nossa, Angelo Capelli. Tornano a far discutere i parcheggi a pagamento nei pressi della stazione di Ponte Nossa. Sindaco, anzitutto vogliamo dire perché allora erano stati introdotti alcuni posti a pagamento? Ecco, dice bene alcuni posti perché in realtà fin dall'inizio non furono tutti destinati a questo tipo di utilizzo dietro al pagamento di un corrispettivo. Furono introdotti proprio per un principio molto semplice, è sì un'area di interscambio di trasporto locale, è pur vero però che quest'area di interscambio e quindi tutta la zona relativa sia all'innesto viabilistico che ai parcheggi a servizio di questa zona sono interamente a carico quanto a manutenzione al comune di Ponte Nossa. Essendo un'area destinata ad una fruizione sovracomunale ed essendo ragionevole immaginare che né comunità montana né comuni in questo momento possano permettersi una compartecipazione su questo tipo di attività, essendo anche somme molto basse abbiamo ritenuto assolutamente equo e certamente legittimo introdurre questa modalità che parzialmente introduce il parcheggio a pagamento per chi con la somma di circa un euro può lasciare la macchina per 10 ore al giorno. Di fatto è vero però che questa decisione penalizza soprattutto i pendolari che lasciano la macchina lì per utilizzare i mezzi pubblici. Qualcuno dice a questo punto mi conviene quasi utilizzare la mia auto per andare al lavoro. Mi piacerebbe conoscere la casa produttrice che rende conveniente per una somma di 20 euro mese l'utilizzo del mezzo privato anziché del mezzo pubblico. Comunque fuori di metafora e al di là delle battute io ritengo che sia una somma equa. Anche i pendolari o coloro i quali decidono di utilizzare il parcheggio su una somma di questo tipo a mio modesto avviso non hanno motivo ragionevole per poter protestare. In altre zone di interscambio, ad esempio quella della stazione di Albino, i parcheggi però sono gratuiti? Stiamo parlando di un intervento di tutt'altra natura all'interno di un territorio comunale come quello di Albino che vede un comune di notevoli dimensioni e quindi proporzionalmente con capacità finanziarie decisamente diverse da quelle del paese di Ponte Nossa ma soprattutto la creazione di questi spazi all'interno dell'importantissimo intervento viabilistico che è stato proprio il metro leggero realizzato dalla Tebbe e appunto il cui investimento è stato fatto a spese di questa società e all'interno di una progettualità che ben conosciamo. Credo che sia una soluzione equa che tenga conto di tutti gli interessi. Non vessare troppo chi ricorre con grande intelligenza e mezzi pubblici e dall'altra parte tener conto dell'esigenza del paese che amministro di avere una piccola risorsa che mi permetta di mantenere sgombro il parcheggio per tutti dalla neve e mantenerlo in condizioni dignitose e, ripeto, con somme che sono di là dall'essere giudicata importante.